Plastic Free, facciamo la differenza. A Termoli è giunto a conclusione il progetto messo in campo dalla scuola secondaria di primo grado Schweitzer, nato con l'obiettivo di contribuire alla promozione delle buone pratiche in tema di riduzione dell'uso di plastica usa e getta e, altresì, alla formazione di cittadini consapevoli che abbiano cioè a cuore l'ambiente in cui vivono. Il convegno conclusivo si è tenuto nei giorni scorsi nella stessa scuola, incentrato proprio sul tema dell'ecosostenibilità ambientale. All'iniziativa hanno preso parte, oltre all'amministrazione comunale e all'ufficio scolastico regionale, diverse personalità di spicco attive nel dialogo educativo con le istituzioni scolastiche circa le tematiche ambientali. Altro focus, quello proposto da tecnici che hanno spiegato agli alunni l'impatto deleterio della plastica sull'ambiente, la dilagante piaga delle microplastiche e l'importanza della raccolta differenziata come prezioso strumento di riutilizzo, riciclo e recupero. Questo anche nell'ottica dell'attuale piano nazionale di ripresa e resilienza adottato dal governo. Le parole di Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free o di Vionlus, l'associazione che in tutta Italia sta portando avanti il progetto. In meno di due mesi, 33.700 studenti sensibilizzati, 412 scuole raggiunte. In tutta Italia sì, siamo su oltre 1.000 città italiane, 1.200 città italiane, con gruppi fino ad arrivare a 200.000 volontari. Siamo ormai un'organizzazione considerata anche l'anno scorso la più coinvolgente per i risultati ottenuti in tutta Italia in un solo anno.